Il prossimo piano è del mio gruppo preferito, sono un grandissimo fan del Dream for Change per tutto quello che fanno, per come suonano, per come suono, ma soprattutto perché quasi tutto ricavato dei loro concerti e dei loro artisti va per la costruzione di scuole musica per bambini nei paesi del mondo, per cui il Dream for Change se vi capita comprate quei lì! Freedoms Che, the wife said it And just he He's the man of the LA child If you finish If you feel something new We can't think it's gonna be a good We can't think it's gonna be a good Yeah Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.